Un'iniziativa di solidarietà e di informazione è quella che si è svolta lo scorso 28 aprile ad Albadriatica, presso la sede del gruppo Casa Pound. Largo consenso e partecipazione si sono manifestati attorno alla presentazione del libro Il vento sulle braccia, dell'autore, atleta e militante Claudio Palmulli. La somma incassata dalla vendita del libro contribuirà ad acquistare il Tride, un supporto che servirà ad agevolare la mobilità dello scrittore. Presentazione del libro dove il libro non parla assolutamente della mia militanza in Casa Pound Italia, quindi parla di disabilità, di sport e di rinascita a livello personale. Secondo me qui tutte le istituzioni a livello politico non devono dare un colore politico alla disabilità.